salve ragazzoli benvenuti su questa brevissima intro faccio questo prevento ragazzi per dirvi semplicemente che se volete seguire le mie live streaming su fortinet ovviamente avete modo appunto di guardarle ogni singolo giorno ragazzi da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 2 di notte ogni singolo giorno tranne il sabato e la domenica che sono due giorni opzionali inoltre ragazzoli se per caso vedete che in questo video ero tra virgolette un po seria non tranquilli non ero arrabbiata semplicemente ero molto concentrata in quanto stavo streamando e volevo portare dei gameplay di qualità con tante kill e quindi appunto mi sono concentrata detto questo ragazzi vi auguro una buona visione lasciate tanti mi piace e condividete questo video e ragazzi buon video peace mamma mia già sei simpaticissimo guarda troppo il simpaticone un po stag. un po stag. un po stag. Sì 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 Oh Ci sta un altro rift Nice Oh Aspetta Ok Ora me ne posso andare Allora 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 Come vincere un game di sole trappole ragazzi Trappole e muri Ciao YouTube! Per dirvi semplicemente delle cosine, perché io mi rendo conto che la maggior parte di voi che appunto mi seguono su YouTube non sanno molte altre cose che io faccio oltre a YouTube. Inizio intanto col dire ragazzi che io non faccio live streaming su YouTube per il semplice motivo che preferisco Twitch come piattaforma per streammare a differenza di YouTube. Quindi ragazzi se voi ovviamente vi dovesse far piacere guardare le mie live streaming su Twitch, che ovviamente sono praticamente 95% inerenti a Fortnite, io ogni giorno gioco su Fortnite ragazzi, ogni singolo giorno, e stream appunto 8 ore ogni giorno, letteralmente full time. Io ragazzi streamo su Twitch dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 2 di notte. Voi trovate i link sia in descrizione che nel commento di questo video. E inoltre ragazzi vi volevo anche dire di seguirmi sia su Instagram, e trovate sempre il link in descrizione, ed di seguirmi anche su Facebook. Sinceramente uso Instagram, ma in realtà uso anche Facebook, in senso uso entrambi ma Instagram è il mio main social. Instagram comunque sia lo utilizzo appunto per postare foto magari di me, divertenti, del mio gatto, o magari appunto lo utilizzo per postare eventuali clip di Fortnite. Quindi sì, seguitemi su Twitch ragazzi e ricordatevi che mi trovate in live ogni singolo giorno. Detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video. Volevo ringraziare a tutte le persone che continuano a supportarmi ogni giorno, che scrivono bei commenti su ogni singolo video. Tutte le persone che continuano a lasciare i mi piace, quindi ragazzi grazie a tutti quanti. E detto questo io vi invito appunto a iscrivervi al canale, condividere questo video e lasciare tanti bei pollicioni in su ragazzoni. Detto questo, ci becchiamo in live alle 3 e alle 9. Quindi un bacione belli e ci becchiamo presto. Peace!